Il corso si svolge nel contesto in cui il CAD impone alla pubblica amministrazione di ripensare il modo di operare, sollecitando un cambiamento sostanziale non sempre facile da attuare e che richiede in modo particolare il coordinamento della DSGA. Alla luce della normativa vigente del nuovo regolamento di contabilità, il corso ha l'obiettivo di porre l'attenzione sugli interventi di digitalizzazione e di trasparenza che investono le scuole. L'intento è quello di mostrare concretamente l'importanza della trasparenza partendo dalla descrizione di una procedura, per esempio la procedura di selezione e di individuazione di un esperto esterno. Saranno illustrati gli atti previsti dalla procedura di selezione che portano alla stipula del contratto con l'esperto individuato e alla pubblicazione nelle specifiche aree del sito web previste dalla normativa. Ogni atto presentato potrebbe essere oggetto sia di un singolo quesito della prova scritta che anche della prova orale.